ok ragazzi questa è la prima zappata di un nuovo progetto che abbiamo qua a varazze non vi dirò ancora che cos'è ma lo scoprirete pian piano perché creerò una serie di video appunto su questo posto su questo progetto quindi iscrivetevi al canale e seguiteci in questa serie grazie per la visione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti è un metodo alternativissimo per spianare il percorso che faremo la moto schiaccerà un po' l'erba dove ci sarà la traccia poi con il cisturatore facciamo il lavoro di fino e poi ci giriamo un bel po' in bici per fare la traccia perfetta così che tutti ci possano girare senza problemi grazie a tutti 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 positivi quindi siamo super contenti oggi abbiamo anche della manovalanza giovane che ci aiuta nel costruire queste linee non vi dirò ancora tutto quindi non cercate cose strane nelle mie parole perché non vi dirò niente dopo vi farò vedere più o meno il giro deciso ad oggi che vogliamo fare qua con la gopro quindi aspettatelo e niente cosa dire linee salite discese cosa potrà averne fuori secondo voi quello che vi posso dire però è che non è un semplice bike park vi posso dire che a varazze sarà un progetto dedicato sia i grandi che i piccini e a varazze anche perché quale posto migliore per girare a 365 giorni l'anno sia d'estate che d'inverno e davvero sarà un progetto fighissimo e spero che a tutti voi piaccia come sta piacendo a noi di varazze mtb a tutti i piccoli eccoci qua il video del percorso queste sono varie linee che ci saranno adesso le vedete abbastanza così a random ma hanno tutte una precisa idea su come verranno fatte e ve ne faccio vedere una tutte queste linee finiscono in questo piccolo piano questa chicane che poi ci rimette nella salita che ci porta di nuovo su per un'altra parte di percorso questo è il punto più alto della pista andiamo qua dietro per un pezzo un po' più ripido questo è il sito in piano che ci riporta ancora in un'altra discesa qua è ancora tutto a caso quando poi sarà tutto ben compattato qua ci sarà una sponda e via di nuovo per la salita come avete visto l'aria è grandissima e ha un sacco di potenziale non vi dirò ancora esattamente di cosa si tratta ma magari scrivetemi nei commenti cosa pensate che sia cosa pensate che combineremo questa cosa con il qua a Varazze e davvero non vedo l'ora che tutto sia concluso, tra l'altro manca poco, tenetevi buono sabato 30, non dico altro, ciao!